Oh ragazzi, c'è il trailer che è uscito ieri dei Deadpool and Wolverine, è stato il paradiso per un fan della Marvel secondo me, soprattutto per un fan di Wolverine, vedere una tuta così comic accurate, tra l'altro senza maniche, cosa che molti si lamentavano, bellissimo, veramente belli, quasi emozionante. Allora, so che molti di voi mi chiedono le reaction ai trailer, ma io quando vedo un trailer, cioè sinceramente non è che riesco ad aspettare il giorno dell'uscita dei miei video per fare una reaction, io li guardo e poi ne parliamo. Ecco, in questo caso qui ovviamente si potrebbe parlare di quello che è successo verso la fine, quindi degli eventuali cameo che sono stati confermati all'interno di questo trailer, di cose di cui abbiamo già parlato su questo canale e quindi semplicemente non lo farò. Oggi voglio parlare di qualcosa che i rumors non avevano anticipato, ma che è stato introdotto all'interno del trailer, ovvero la condizione mentale del Wolverine che vediamo all'interno del film. Difatti, da quello che ci viene detto, il Wolverine che viene presentato e che accompagnerà Deadpool in quelle avventure dovrebbe essere un Wolverine, da quello che vediamo, depresso, che ha mandato a fare in culo il suo mondo praticamente, che il suo mondo è praticamente irrecuperabile, e quindi è un Wolverine messo così, messo lì, che effettivamente può aiutare Deadpool. Come al solito, in pieno stile Hawk Comics, che cosa faremo? Prenderemo questa informazione, partiremo dai fumetti per cercare di capire effettivamente che cosa ha portato quel Wolverine a essere depresso e soprattutto da che mondo proviene. Ovviamente saranno solo teorie e ipotesi, quindi stiamo tutti tranquilli, non vi voglio spacciare per verità quello che penso, ma vedremo se effettivamente questo non sarà uno spunto di riflessione interessante. Prima di cominciare con il video vero e proprio ragazzi, però, vi voglio ricordare una cosa importantissima per questo canale e in generale per tutti i canali YouTube, ovvero di iscrivervi al canale, perché soltanto il 37,4% di chi guarda i video di Hawk Comics è iscritto, quindi mi raccomando, cliccate su quel tasto, non mi deludete, almeno sapete che se volete dei contenuti a tema Marvel li potete trovare qui tranquillamente. Una volta ogni due giorni, più gli shorts tutti i giorni, i vostri contenuti ce li avete, poi se guardate il video perché non vi iscrivete, dai forza iscrivetevi e io direi che possiamo iniziare con il video vero e proprio. Come ho detto anche nell'intro, noi solitamente ci basiamo sui fumetti per poi andare a ipotizzare quello che potrebbe succedere in un live action. Credo che sia il mondo più sensato per approcciarsi al MCU, in generale al mondo dei live action fumettistici, ovviamente con i giusti cambiamenti che noi dobbiamo mettere in conto, le giuste proporzioni e in questo caso effettivamente voglio partire da una storia molto famosa, una storia che però all'interno di un live action si è già vista. Stiamo parlando infatti di Old Man Logan, la storia di partenza per il film Logan, il film che doveva proprio concludere la carriera di Jackman nei panni di Wolverine. All'interno di Old Man Logan, quando dico Old Man Logan mi riferisco alla storia fumettistica, quando dico Logan invece è storia esclusivamente al film. Comunque parlando di Old Man Logan, in realtà la storia certo fa vedere le avventure di questo Logan molto vecchio all'interno di questo mondo quasi post-apocalittico, anche se in realtà non stiamo parlando di un mondo post-apocalittico ma siamo lì vicino. E in più all'interno dei fumetti effettivamente vediamo che cosa ha portato a far diventare questo mondo in quelle condizioni lì, quindi semi deserti con i villain che governano tutto. Nel film Logan invece no, nel film Logan vediamo soltanto il futuro. La parte del presente, che quindi sarebbe stato un buon flashback, è stata totalmente tagliata e viene solamente citata, però non sappiamo effettivamente che cosa sia successo, almeno se vediamo solo esclusivamente il film Logan. Ecco, questa parte, quindi che sarebbe dovuta essere un ipotetico flashback del film Logan e che quindi potrebbe essere rivista tranquillamente nel film Deadpool and Wolverine, potrebbe essere appunto il punto di partenza per la depressione che noi vediamo nel Wolverine presentatoci appunto nel trailer. Lui infatti è responsabile della decaduta non solo del mondo ma soprattutto degli X-Men, che lo ha portato appunto a pendere il nome di Wolverine e il suo mantello, il suo costume al chiodo. Difatti nella terra 80, 71, 28, che è la terra di Old Man Logan, a un certo punto tutti i villain del mondo decidono di fare una cosa che avrebbero dovuto fare sin dall'inizio, se avessero voluto effettivamente vincere sin dall'inizio, ovvero allearsi tutti insieme. Iniziano quindi a poco a poco a distruggere praticamente tutti i vari eroi della terra e a un certo punto decidono anche che si devono occupare dei vari X-Men. Cosa fanno quindi? Decidono di... il piano per sconfiggere gli X-Men è molto elaborato e anche molto sadico. Difatti a Wolverine arriva un messaggio. A quanto pare 40 villain hanno attaccato la X-Mansion, ovvero la magione degli X-Men, il loro quartier generale. Non riesce uscendo a contattare i suoi compagni né a localizzarli, Wolverine irrompe nella magione e trova davanti a sé tantissimi villain, iniziando quindi a ucciderli tutti per proteggere i suoi compagni e anche i bambini che effettivamente trovano rifugio all'interno di quella casa e che sono difesi dagli X-Men. Wolverine fa un massacro. Ammazza tutti, sangue ovunque. L'ultimo che uccide sembra essere Bullseye, il noto mercenario. Ma dopo aver ucciso l'ultimo villain, scopriamo che in realtà tutto quello non era altro che un'illusione. Un'illusione generata proprio da misterio, che aveva indotto Wolverine a pensare di avere di fronte a sé dei villain. E scopriamo quindi che in realtà Wolverine non ha ucciso dei villain, dei cattivi. Ha ucciso i suoi compagni degli X-Men. Questa è una cosa estremamente sadica, eh? È vero. Ma porterà effettivamente Wolverine a fuggire via, piangendo, disperato. Proverà addirittura ad andare in una stazione ferroviaria, si metterà in mezzo in questa stazione ferroviaria e aspetterà il treno per farsi uccidere. Non riuscendoci ovviamente, ma uccidendo il nome Wolverine e rinascendo come Logan, che vivrà in questo mondo molto particolare. Questa, tra l'altro, oltre a farci capire che effettivamente questa cosa porta a una depressione per quanto riguarda Wolverine, quindi potrebbe essere legata appunto a quello che vediamo all'interno del trailer, il mondo che vediamo di Terra 80, 71, 28 è un mondo particolare, perché a un certo punto verrà anche diviso, tra i vari villain in particolare, verrà diviso da Abomination, che in realtà poi verrà, il suo territorio verrà conquistato da Hulk, da Magneto, il cui territorio verrà conquistato da un nuovo Kingpin, da Doctor Doom e da Red School, che diventerà il presidente, tra molte virgolette, presidente degli Stati Uniti d'America. Comunque, tutta la storia di Old Man Logan è ambientata proprio in quel mondo lì, e il Wolverine di quel mondo lì ha dovuto fare quella cosa là. Ecco, immaginatevi quindi se noi dovessimo vedere, in un film come Deadpool and Wolverine, un film che dovrebbe essere R-rated, quindi che potrà spingersi oltre, non solo con le parolacce, che è una cosa su cui molti sono fissati con Wolverine, ma anche con lo splatter, che è questo quello che noi vogliamo vedere in realtà, quindi un po' più di sangue, soprattutto quando si parla di due personaggi del genere, beh, potrebbero essere effettivamente in grado di dare vita a una scena del genere. Questa cosa, oltre ad essere eventualmente spettacolare, ci chiarirebbe ancora di più il perché il Wolverine che vediamo è depresso, non vuole più essere un eroe, non vuole più essere un X-Men, non ne vuole più sapere nulla. In più, se questo film servirà a reintrodurre effettivamente gli X-Men nell'MCU, anzi non diciamo gli X-Men, diciamo Wolverine e Deadpool, in particolare Deadpool, beh, sarebbe utile anche per reintrodurre Deadpool all'interno di un nuovo universo. Il Deadpool che vediamo all'interno del trailer potrebbe essere interessato, alla fine del film, verso la fine del film, di andare in un altro universo che magari è privo di Wolverine, per riprovare a essere un eroe a un certo punto. Quindi potrebbe essere anche la scusa per reintrodurre Luke Jackman, versione Wolverine, all'interno dell'MCU. Magari non alla fine di questo film, forse è un po' troppo presto, ma che porterà effettivamente a Avengers Secret Wars, film che sempre più probabilmente avrà proprio lo stesso Luke Jackman che reinterpreterà di nuovo il suo Wolverine. Ecco, tante cose sono sul piatto, diciamo che oggi mi sono voluto soffermare proprio su queste cose qui, come vi ho detto, certo, ci sono molte cose che sembrano essere confermate da questo trailer, la cosa più interessante, secondo me, è proprio il carattere di Wolverine, quello che potrebbe aver fatto. Detto questo, ragazzi, io devo dire che vi saluto, mi raccomando, come al solito fate i bravi, e iscrivetevi, iscrivetevi per non perdervi altri contenuti a tema Marvel. Ciao a tutti, ragazzi!